ciao a tutti e bentornati continuiamo la nostra playlist dedicata al blender come al solito sto utilizzando il pack 1 ve li metto il link in descrizione e oggi ci occupiamo del giunto cardanico al solito andiamo ad eliminarci il cubo di default nascondiamoci luce e camera ed andiamo ad appenderci il dal virtual pack la collection giunto cardanico eccola qui ed appende ci spostiamo in 7 ce la posizioniamo al centro dello schermo col tasto g ed eccoci qua cominciamo col selezionare il primo elemento che sarà il nostro supporto lo rinominiamo andiamo l'enter già che ci siamo quindi control c andiamo a crearci entrando nella edit mode il vertex group quindi rinominiamo prima di tutto la mesh control v e creiamoci il vertex group control v e lo assegniamo possiamo uscire dalla edit mode e adesso shift a andiamo ad introdurre la nostra armatura questo sarà il nostro osso come dovrà chiamarsi quest'osso control v supporto come viewport display in armature viewport display dovrà essere in front in modo che possiamo vedere le nostre osso spostiamoci in object mode ci siamo e allora quello che facciamo è selezionarci all'arma del supporto e l'osso relativo e control p armature default per verifica al solito selezioniamo l'armatura ci spostiamo in post mode selezioniamo l'osso g e si porta anche il supporto e ci siamo adesso dobbiamo spostarci in object mode e possiamo andare a selezionarci il primo elemento che indicheremo con giunto chiamiamolo giunto 1 control c ce lo copiamo e creiamoci il vertex group entrando nella edit mode quindi rinominiamo sia la mesh control v e il vertex group relativo contro e lo assegniamo e usciamo abbiamo bisogno di un osso per questo elemento dove dovrà essere posizionato l'osso l'osso lo porremo ovviamente in direzione assiale quindi se adesso entriamo nella edit mode utilizziamo i raggi x ed utilizziamo il le superfici con il tasto 3 andiamo a selezionarci solo questi elementi ok e quindi shift s cursore alla selezione usciamo dalla edit mode del giunto entriamo nella edit mode dell'armatura ce la estrudiamo in direzione z avremo un osso che come caratteristiche dovrà essere disconnesso dal supporto e quindi shift s selezione al cursore ok e per l'orientamento corretto possiamo selezionarci uscendo dalla edit mode dell'armatura entrando nella edit mode del supporto tutto il supporto shift s cursore alla selezione è anche troppo però va bene non fa niente anche se sia troppo grande non fa niente ok usciamo dalla edit mode del supporto entriamo nella edit mode dell'armatura e shift s selezione al cursore già che ci siamo sull'osso che si chiamerà control v giunto 1 andiamo ad impostare subito passando in post mode quelli che sono i vincoli aggiungeremo quindi bone constraint che saranno limit location non si dovrà muovere rispetto ad uno spazio locale ok si muoverà soltanto se trasportato da quest'osso e possiamo aggiungere il secondo vincolo limit rotation lo facciamo ruotare soltanto in direzione y proviamo esatto usciamo dalla post mode entriamo in object mode selezioniamo giunto e selezioniamo con lo shift l'armatura control p e armature deform dovremo esserci spostiamoci in post mode rotation ed ecco qua e torniamo in object mode dovremo dedicare un'attenzione particolare agli elementi della crociera allora per posizionarli correttamente per adesso nascondiamoci sia la crociera che il giunto 2 e quello che dobbiamo fare andare a selezionarci il profilo entriamo nella nel profilo scusate il giunto entriamo nella edit mode del giunto e gli ossa per la crociera cominceremo a posizionarle considerando questi elementi che sono sicuramente posizionati in maniera corretta quindi non dovrebbero darci problemi per il funzionamento assicuratevi di selezionare degli elementi simmetrici rispetto a qualche cosa quindi meglio di questo non c'è niente tutti guardate lo faccio lentamente potrei utilizzare la penna ma attenzione a selezionare soltanto questi elementi ok quando vi siete assicurati di aver selezionato solo questi elementi shift s cursore alla selezione e possiamo uscire dalla edit mode del support del giunto ed entriamo nella edit mode dell'armatura e studiamocela in direzione z ovviamente come osso dovrà essere disconnesso e per il posizionamento shift s selezione al cursore ok questo è il nostro primo osso per l'orientamento usciamo dalla edit mode e entriamo in object mode abbiamo bisogno dell'elemento che possiamo rinominare questo elemento lo possiamo chiamare crociera la cosa importante da capire poi quale sarà l'osso che gli dovremo abbinare l'ho rinominato soltanto perché adesso entro nella edit mode effetto tutte le operazioni del caso quindi control c questo si chiamerà comunque crociera quindi il problema non si pone entriamo nel vertex group rinominiamo la mesh control v aggiungiamo il vertex group control v e lo assegniamo quindi questa è la crociera e tutto si chiama come crociera e adesso con tutta la crociera selezionata shift s portiamo il cursore alla selezione usciamo dalla edit mode entriamo nella edit mode dell'armatura e il posizionamento shift s selezione al cursore ok ci serve anche nascondo il supporto un altro elemento e lo estrudiamo direzione generica tanto quello posizioniamo con calma e nascondo anche il crociera ok allora quest'osso che si chiamerà giunto 1 0 2 non ha importanza potremmo rinominarli come elementi della crociera noi quello che ci interessa è soltanto l'osso crociera che poi andremo ad abbinare sappiamo che questi sono derivati dall'osso aggiunto 1 e quindi lasciamo questo nome la caratteristica è questo non dovrà essere disconnesso dalla da quest'osso e dovrà essere assolutamente vincolato dovranno comportarsi come se fossero un unico osso ho bisogno di due ossa distinte perché ho bisogno del punto centrale per un dumb track vedremo quale ok esco dalla edit mode ed entro nella edit mode del giunto 1 deseleziono tutto e mi vado a selezionare l'altro punto in cui dovrò effettuare il posizionamento del cursore corretto sì non è immediato non esiste un un procedimento unico ovviamente per fare questo e poi se volete provare improvvisare ok assicuratevi di non aver selezionato nient'altro e al solito shift s portiamo il cursore alla selezione ok usciamo dalla edit mode dell'armatura del supporto entriamo nell'edit mode dell'armatura e adesso shift s possiamo portare la selezione al cursore ok questo è il posizionamento già che siamo nell'edit mode andiamo a selezionarci quest'osso e estrudiamolo ancora in direzione z questo osso che si chiamerà aggiunto 103 sarà anche questo connesso ok dobbiamo posizionare la testa per posizionare la testa attiviamo quello che abbiamo indicato con giunto 2 usciamo quindi dalla edit mode dell'armatura entriamo nella edit mode del giunto abbiamo bisogno di questi elementi quindi andiamo a determinarci la posizione del nostro cursore in questo modo selezionandoci seleziono questi potrei anche selezionare gli elementi estremi della crociera penso che possa essere fatto meglio selezionando questo è anche più semplice al solito assicuratevi di aver selezionato solo gli elementi della crociera questi elementi del di questo foro ok e adesso shift s cursore alla selezione esco dalla edit mode del giunto 2 entro nella edit mode dell'armatura e questo è l'elemento shift s selezione al cursore ok ci siamo o quest'osso è l'osso che andremo ad indicare come crociera quindi control v dovremo avere crociera selezionata ci siamo possiamo riattivare anche la crociera abbiamo fatto l'assegnazione del vertex group ci spostiamo in object mode selezioniamo la crociera selezioniamo l'armatura control p e armature deform vediamo che cosa succede in post mode mettiamo in rotazione questo elemento ed ovviamente crociera e giunto seguono il movimento giunto e crociera sono collegati ok ok possiamo spostarci in object mode e adesso andiamo a vedere in che modo ottenere questo movimento oscillatorio della crociera allora cominciamo collaborare sul giunto 2 rinominiamolo 2 ok al solito control c per copiare ci spostiamo in edit mode selezioniamo tutto e andiamo a crearci il vertex group rinominando prima la mesh e control v e assegnandolo allora il problema che adesso ci si pone da dove faccio partire l'osso per questo elemento ok allora usciamo dalla edit mod ed entriamo nell'edit mod dell'armatura l'osso che dobbiamo utilizzare è questo quindi possiamo crearci un osso estrudendo questo elemento questo è il nostro osso non dovrà essere disconnesso quindi dovrà essere connesso all'osso crociera e quest'osso si dovrà chiamare control v giunto 2 come dovrà essere posizionato andiamo in object mode e selezioniamoci il giunto entriamo nell'edit mod e con tutto selezionato shift s cursore alla selezione ok e adesso possiamo rientrare nell'edit mod dell'armatura e shift s selezioni al cursore dovrà essere posizionato in questo modo ok avrei potuto selezionare anche altri punti per farlo vedere meglio l'importante che si capisce che è diretto come l'asse del giunto che abbiamo indicato con due considerazione importante è connesso ok allora entriamo nella post mode dell'armatura e vediamo che cosa succede se io metti in rotazione quest'osso questo è quello che succede allora mi serve un altro osso che dovrà indirizzare questo che altrimenti come vedete si sposta in questo modo cioè di lato in questo modo e non va bene allora da questo andiamo a riattivarci il supporto ad esempio e nascondiamoci per adesso il giunto che abbiamo indicato con giunto 2 entriamo nella edit mode dell'armatura e dall'osso supporto ce ne andiamo a estrudere un altro in direzione z da per adesso dovrà essere disconnesso e dovrà essere posizionato allora poi possiamo visto che abbiamo il cursore già posizionato in questo punto che sicuramente è un punto dell'asse facciamo così shift s portiamo selezione al cursore quindi non tutto l'osso ma soltanto la testa dell'osso usciamo dalla edit mode quindi entriamo in object mode entriamo nella edit mode di questo elemento e adesso ci andiamo a selezionare questi ad esempio potevo farlo anche con l'intero giunto 2 avrei ottenuto lo stesso tipo di risultato oppure con una parte del giunto 2 comunque tutti gli elementi che presentano lo stesso tipo di simmetria e sono coassiali adesso selezioniamoci questi va più che bene ok quindi shift s cursore alla selezione entriamo nella object mode entriamo nella edit mode dell'armatura e adesso selezioniamoci la base e shift s selezione al cursore lo posizioniamo in questo modo quindi se adesso ci spostiamo in post mode e selezioniamo quest'osso e gli andiamo ad imporre come vincolo un dump truck utilizzando l'armatura e come osso il giunto che abbiamo indicato come giunto come supporto 0 1 scusate perché questo è il giunto 2 ok allora in teoria adesso se io metto in rotazione quest'osso come vedete l'osso centrale guarda sempre ve lo faccio vedere da questo lato rotazione l'osso centrale che è quello del giunto guarda come direzione ci siamo l'unica cosa che mi manca è questo elemento deve basculare ok allora per ottenere questa operazione abbiamo bisogno di un altro osso che dovrà essere posizionato come questo ma con verso opposto e dovrà essere derivato da dall'osso che rappresenta il giunto 2 quindi entriamo nella edit mode dell'armatura e estruiamo questo elemento ops facciamo così in control z per eliminarlo quindi mi vado a selezionare la testa di questo quindi extrusion quindi assicuratevi di aver selezionato la testa dell'osso aggiunto 2 che studiamo in direzione z per essere sicuri quando l'avete fatto vi basterà andare a controllare come vedete è da questo derivato dovrà essere disconnesso quindi adesso lo posso spostare come dovrà essere diretto selezioniamo questa testa e shift s cursore alla selezione la base dovrà essere selezioni al cursore e adesso per il posizionamento corretto dell'osso selezioniamoci il centro della crociera quindi queste ossa e shift s cursore alla selezione adesso selezioniamo questo shift s e selezioni al cursore dovrà essere posizionato in questo modo ok vediamo che cosa succede in post mode quindi seleziono quest'osso lo metto in rotazione ecco che cosa ho ma come vedete c'è un discostamento tra quelle due ossa quindi quello che devo fare è devo andare a selezionare quest'osso gli devo imporre come un vincolo und dump track e come armature ovviamente devo utilizzare questo è il giunto 2 questo quindi sarà il giunto 2 0 1 giunto 2 0 1 questo dovrà essere il mio target ok quindi significa che se adesso metto in rotazione quest'osso dovrei avere il movimento corretto vediamolo anche di lato dovremo esserci perché dovremo esserci allora io attivo il giunto 2 che non mi ricordo nemmeno se li ho collegati no quello che devo fare andare a selezionarmi quindi object mode selezionare il giunto 2 di cui ho creato il vertex gruppo selezionare l'armatura e control p armature deform e quindi adesso se io mi sposto in post mode e metto in rotazione il mio sistema dovrei esserci manca il giunto 1 fantastico quindi entriamo a selezionarci in object mode il giunto che abbiamo indicato come giunto 1 ce l'abbiamo il vertex gruppo ci abbiamo tutto e quindi selezioniamoci l'armatura e ctrl p armature deform mi sposto in post mode e se adesso metto in rotazione quest'osso ecco il sistema si dovrebbe muovere correttamente ok vediamo che cosa succede ok ok allora io vedo un piccolo errore questo è dovuto secondo me alla non corretto posizionamento degli elementi però ci siamo facciamo partire una rotazione così ce ne rendiamo conto meglio ok allora andiamo ha fatto alcune prove perché x delete keyframe ho dovuto resettare l'ho dovuto rifare un'altra volta però è identico spiccicato a quello che avete fatto voi ho cambiato soltanto la forma di alcuni vincoli ma ci siamo l'unica cosa che dovete fare andare a selezionarvi l'osso di partenza e e registrarci scusatemi ci spostiamo in bones rotation utilizzeremo un x angle let's click clicchiamo su rotation registriamo la posizione ci spostiamo nel frame finale 250 e andiamo a registrarci la posizione dopo averlo fatto rotare che ne sono di 720 gradi e i rotation e facciamo partire il filmato eccoci qua ok allora ragazzi se ci sono dei piccoli movimenti degli elementi considerati allora il tutto è dovuto a delle imperfezioni nella selezione dei punti da utilizzare per per il posizionamento dei vari elementi quindi delle teste fateci attenzione spesso può succedere fateci attenzione ma è questo il il punto fondamentale da seguire in questo caso ci sarà ecco come vedete qui c'è qualche piccola imperfezione eccola qua non l'avevo vista eccola qua fatelo con calma prendetevi più calma di quella che ho disposizione io diciamo dovendo fare tre cose contemporaneamente qualche cosa può sfuggire però il procedimento è esattamente questo ovviamente esistono anche delle altre strade per effettuare questo tipo di operazioni cercatele vedete che cosa trovate e al solito se il tutorial vi ha servito e piaciuto iscrivetevi cliccate mi piace ci vediamo alla prossima